Buongiorno a tutti, io sono Angela Chiari, Mobility Manager di area del Comune di Parma. Tanto per rappresentarvi la mia città, la mia città è in una posizione molto buona, molto favorevole. Tra Milano e Bologna si trova nel cuore della pianura padana, il suo territorio comunale è 260 metri quadrati, 195 mila abitanti. Città creativa dell'UNESCO, è una città molto attiva dal punto di vista culturale, dall'università, delle aziende agroalimentari. È una città che è vivace anche dal punto di vista universitaria. Abbiamo avuto i primi studi sulla guida automatica, la guida dell'auto senza conducente, per farvi una carrellata di quello che facciamo. È una città piccola però, che è molto sfaccettata dal punto di vista, molto vivace, ha una vivacità molto varia. È sede dell'EFSA, l'autorità alimentare. Adesso entriamo più nel vivo di quello che faccio io personalmente. Nel 2017, come già hanno preannunciato, noi abbiamo approvato il PUMS e siamo stati i primi in Italia ad approvarlo sotto questa nuova veste. Noi avevamo già un PUM, Piano Urbano della Mobilità. Noi siamo stati i primi ad approvare il PUMS con VAS, con Valutazione Ambientale Strategica. Quindi io ne vado molto fiera perché sono stata io a coordinare i lavori di un team di professionisti. Parlando poi di viabilità, diciamo che è una città dove c'è traffico ma comunque si viaggia abbastanza bene. Nonostante questo, il 58% dei trasferimenti in città avviene con auto privata. Il 18% che ormai è diventato già il 19% con trasporto pubblico. La bicicletta viene utilizzata, è una città che ha la grande tradizione della bicicletta, viene usata per il 17% più o meno. Il 24% gli spostamenti pedonali ciclabili e così via. Nonostante questo, nonostante abbiamo questa tradizione, siamo abbastanza virtuosi, non perché siamo più bravi di tutti, perché comunque fin da bambini ci hanno sempre insegnato ad utilizzare la bicicletta perché era una città, la nostra è una città che si presta per questo utilizzo. Nonostante questo abbiamo un grandissimo tasso di inquinamento, questo perché purtroppo viviamo nella pianura padana dove l'aria ristagna, l'inquinamento ristagna e quindi ci sono grosse percentuali di CO2 nell'aria e il 40% di queste emissioni sono causate dai trasporti, il 55% dal riscaldamento e il 5% da altro. Altro che vogliono dire i cantieri o le industrie, ma le industrie sono per legge, si sono dovute adeguare e quindi ritornando a quel 40% di inquinamento che è causato dal trasporto, da lì partiamo con le attività di mobilità sostenibile e che facciamo all'interno dell'amministrazione. Io ho questo ruolo di mobility manager di area. Questi sono riferimenti normativi, ma che ormai conoscerete tutti. I riferimenti normativi per le attività del mobility manager aziendale e del mobility manager d'aria partono dal 1998 con il decreto del Ministero dell'Ambiente, poi il successivo decreto del 2000 e poi la legge 221 del 2015 sulla green economy. I compiti, probabilmente avrete già, c'era già stato qualcuno prima di me che ha detto queste cose, io le dirò in modo molto sintetico, i compiti del mobility manager aziendale è quello di ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti, ma con un fine ben preciso, il fine è quello di ridurre l'uso dell'auto privata. Questo è un obiettivo fisso. Poi si possono fare tante cose, tante proposte, prevedere tante azioni, ma l'obiettivo è quello di ridurre l'utilizzo dell'auto privata. Quindi il mobility manager aziendale è una figura che interviene sulla domanda della mobilità, quindi cerca di modificare la domanda della mobilità, ma non sull'offerta del trasporto, perché l'offerta del trasporto viene dalle aziende del trasporto. Quindi ecco che qui interviene la figura del mobility manager d'area, che deve fare da tramite tra i due soggetti, il mobility manager di area e l'azienda di trasporto pubblico. Ecco qui i compiti del mobility manager d'area, come vi avevo accennato prima, sono quelli di coordinare le attività dei mobility manager aziendale, aiutarli quando vengono a chiedere aiuto. Tante volte vengono da me dei mobility manager che mi dicono ma io potrei incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale se venisse avvicinata la fermata all'ingresso della mia azienda oppure se venisse allungata la tratta della linea 7, della linea 8 e così via. Allora il mio compito è quello di mettere in contatto e fare da mediatore tra il mobility manager aziendale, l'azienda di trasporto, la parte politica, perché in queste cose ci entra sempre la parte politica, la parte politica ha sempre un suo ruolo ben preciso in tutte le decisioni, e cercare di raggiungere una quadra. A volte l'azienda di trasporto dice benissimo se io allungo la linea di questo numero di autobus io ho bisogno di un aiuto economico da parte dell'azienda, altre volte magari a volte non cambia niente cambiare di poco il percorso. Altro compito del mobility manager d'area è quello di dare assistenza nella redazione del piano spostamento casa lavoro. Adesso ci sono tanti mezzi, ci sono dei software che aiutano molto il mobility manager, però non tutte le aziende, io non posso obbligare un'azienda ad acquistare il software per la redazione del piano spostamento casa lavoro, però posso insistere perché l'azienda mi redica il piano spostamento casa lavoro, perché comunque è uno strumento che serve per fare della pianificazione. E quindi io do assistenza in queste cose. Il piano spostamento casa lavoro, io quando sono stata nominata mobility manager di area, sono stata nominata, tanto per ribadire che è una carica che è sempre spalleggiata dalla figura politica, sono stata nominata con una delibera di giunta, cioè non è che sia venuto il mio dirigente a dirmi vuoi fare mobility manager di area, no, il mio dirigente me l'ha proposto e poi è stata fatta una delibera, quindi tutta la giunta è al corrente del fatto che io sono mobility manager di area. E la prima cosa che ho fatto, ho cercato di scansire un po' quello che è il mio compito, quello che è il mio ruolo, quindi prima di tutto fare in modo che le aziende redicano il piano spostamento casa lavoro. Allora, il piano spostamento casa lavoro, se lo tiene l'azienda nel cassetto, no, l'azienda me lo fa vedere, vediamo se è fatto in modo adeguato, dopodiché io do il mio benestare e lo viene approvato formalmente con una determina dirigenziale. Poi successivamente all'approvazione del piano spostamento casa lavoro, che il piano spostamento casa lavoro lo saprete già, ma tanto per puntualizzare, prima parte da una fotografia dello stato dell'arte sugli spostamenti dei dipendenti, quindi guardiamo come si spostano i dipendenti. Vengono messi a sistema questi dati, questi dati che si raccolgono attraverso dei questionari che vengono somministrati a tutti i dipendenti. Questi dati vengono tutti messi a sistema con dei grafici e dopodiché quando commentati e dopodiché quando si hanno tutti questi dati riassunti si può dire benissimo. Allora io individuo le strategie, chiaramente se la mia azienda è in aperta campagna dove non ci arriva il trasporto pubblico, io non potrò dire che devo incentivare il trasporto pubblico. Cioè in base ai dati raccolti si stabilisce che azioni intraprendere per modificare lo split modale e quindi per ridurre sempre di più la percentuale dei dipendenti che si recano al lavoro con l'auto. Due minuti. Ho solo due minuti? Ne sono già passati. Allora, vabbè, cosa è il mobility management? Non ve lo dico neanche perché lo saprete già. Dunque, queste sono le aziende che fanno parte del mio circuito, ci sono aziende private ed aziende pubbliche. Ecco, io qui ho cercato di sintetizzare le cose più importanti che ho fatto da quando sono stata nominata mobility manager. Allora, la prima cosa, le aziende mi venivano a chiedere come ci aiuti a fare il piano spostamento casa lavoro. Io ho fatto un'indagine di mercato e ho visto che allora, nel 2012, c'era solamente un software per la redazione dei piani spostamenti casa lavoro. Per cui ho fatto una convenzione con questa azienda e l'azienda mi ha detto se tu mi raggruppi 10 aziende, io ti faccio uno sconto di TOC. Se me ne raggruppi 5, ti faccio questo sconto. Se me ne raggruppi 20, ti faccio questa. Io sono riuscita a raggrupparne 5 e ho avuto un prezzo vantaggioso, ho fatto una convenzione con questa azienda, ho avuto un prezzo vantaggioso per le aziende che acquistavano questo software e il comune di Parma ce l'ha avuto gratuitamente. Quindi questa è la... Oppure ciclicamente io concordo con le aziende del trasporto pubblico per dare degli sconti sull'acquisto degli abbonamenti per l'autobus. Vabbè, poi dopo ve le leggerete da sole le slide perché non ho poi tanto tempo. Comunque una cosa che io ho imparato negli anni, ho imparato che le aziende... Cioè ci sono delle aziende più sensibili, delle aziende meno sensibili. Però ho capito che anche le aziende hanno interesse a promuovere la sostenibilità. Perché ne va della loro immagine. Ne va quando partecipano ai bandi per gli appalti pubblici. Un'azienda sostenibile è più avvantaggiata di un'azienda che non lo è. Dunque, altra cosa, ho fatto più o meno la stessa cosa per l'acquisto di una piattaforma per la gestione del carpooling aziendale. E anche qui ho fatto questa convenzione con questa azienda. Il comune ha avuto la possibilità di gestire questa piattaforma gratuitamente. Le aziende, in cambio, potevano mettere il loro logo sul portale del comune di Parma. Come dire, la Barilla fa il carpooling, partecipa alla piattaforma per gestire carpooling. L'ospedale fa... Insomma, anche questa... Si cerca di aiutare le aziende a fare queste cose. Poi, altra cosa, ogni tanto io, lo dico un po' col sorriso sulle labbra, ho a disposizione un tesoretto, qualche migliaia di euro, per fare un bando, faccio un bando per i mobility manager in modo che possano essere incentivate le azioni di mobility management. Quindi, naturalmente, per poter accedere, non è che tutti vengono lì a prendere dei soldi dal comune di Parma e non ci danno niente in cambio. Allora, prima, requisito, devono aver redatto il piano spostamento casa-lavoro. E secondo, requisito, devono rispondere adeguatamente alle cose che io chiedo e devono essere interessati a quello che offro. L'ultima volta che ho avuto una cifra abbastanza considerevole, perché poi alla fine ho avuto un centinaio, centomila euro, aiutati dall'azienda del trasporto. E non è che succeda sempre, perché solitamente sono una trentina di euro, trentamila euro. Ho diviso le azioni a cui potevano chiedermi delle risorse i mobility manager in varie categorie, tra cui c'era anche... Allora, loro dovevano aver redatto il piano spostamento casa-lavoro o altrimenti dovevano impegnarsi a redigere il piano spostamento casa-lavoro nell'arco di sei mesi, dopodiché potevano accedere alle richieste. Le richieste erano le classiche dei buoni mobilità, quindi acquisto, abbonamenti a prezzi agevolati, eccetera. Oppure c'erano anche acquisto di auto elettriche, acquisto, installazione di qualcosa, impianti, per facilitare l'utilizzo della bicicletta. C'è chi mi ha fatto la tettoia per il ricovero delle biciclette e addirittura anche acquisto di auto elettriche. Non è che dessimo i soldi per acquistare l'auto elettriche, però le aziende compravano in leasing le auto elettriche e noi rimborsavamo una quota, la quota di un mese, di due mesi e così via. Adesso qui non entro nel dettaglio, tagliamo un po'. Le chiedo un minuto, grazie. Andiamo alle conclusioni. Mi dà ancora un minuto? Ecco, poi è uscito il famoso collegato ambientale, quindi il bando del Ministero. Il Comune di Parma ha partecipato con 12 partner, 12 partner, tra cui queste sono le azioni che vengono realizzate dai 12 partner, che vengono attuate su un'asse nord-sud che va quindi dall'autostrada al campus e lì io raccolgo aziende, scuole e poi c'è una pista ciclabile che viene realizzata. Insomma, vengono fatte tutte queste cose qui. Ecco, un'altra cosa, che questa qui è proprio un appuntamento annuale, è quella del, durante la settimana europea della mobilità sostenibile, io organizzo un convegno per i mobility manager della mia area e qui affrontiamo argomenti, approfondiamo. È una giornata studio in cui vengono approfonditi degli argomenti che loro mi chiedono di approfondire, chiamo degli esperti, eccetera. E poi c'è un momento in cui c'è lo scambio di buone pratiche, anziché farmi fare una relazione che poi vedo solo io, facciamo un incontro e ognuno racconta agli altri e questo è servito molto, perché poi alla fine un'azienda vede che l'altro ha fatto un intervento, allora lo vuole replicare e così via. Ecco, questo è stato l'arrivo all'incontro dell'anno scorso e questi sono gli argomenti che sono stati trattati e poi alla fine c'è stata una sessione di partecipazione, abbiamo fatto, adesso sono molto di moda, ma è piaciuto moltissimo, abbiamo fatto un World Café, quindi voi vedete tutte queste persone che sono sedute intorno a dei tavolini e rispondono a delle domande che abbiamo fatto noi, naturalmente nell'ambito delle loro attività e poi sono state messe in comune tutte queste cose. Queste sono le conclusioni del workshop. Ecco, quest'anno, questa è un'anteprima perché l'incontro ci sarà domani, domani sarà una giornata faticosissima perché alla mattina ho il buy to work, quindi io l'ho organizzato nella mia azienda comune e ogni azienda l'ha organizzato per conto suo e poi dopo faremo il resoconto finale. Questo è il programma dell'incontro di domani che sarà un incontro workshop, gli argomenti sono stati individuati su precisa richiesta dei mobility manager aziendali e al pomeriggio ci sarà il primo modulo di formazione che rientra fra quelle azioni che io ho chiesto al Ministero nell'ambito del collegato ambientale che mi venissero finanziate. Grazie dell'attenzione. Grazie dottoressa Chiari. Io prima di chiudere vorrei vedere innanzitutto se c'è una domanda tra i relatori. Sì, sì, aspetti il gelato. Grazie.